vediamo adesso dei circuiti composti non da semplici componenti elementari ma da combinazioni di essi partiamo dal caso di un circuito rl serie cioè composto da nella forma più semplice da un generatore in questo caso di tensione e dalla serie di due impedenze una un resistore e un induttore quindi abbiamo un resistore di resistenza r un induttore di induttanza l indichiamo la tensione del generatore col suo fasore continuiamo a identificare le grandezze elettriche con la corrente l'unica corrente nella serie della resistenza e dell'induttanza identifichiamo la tensione ai capi della resistenza con i segni più e meno chiamiamola vr il fasore rispettando la convenzione con il segno positivo dove entra la corrente stessa cosa per la tensione ai capi dell'induttanza indichiamola col fasore vl complessivamente ai capi della serie dr e dl c'è ovviamente la tensione v del generatore che comunque mettiamo in evidenza nel nello schema quello che ci proponiamo di studiare è come che relazione esiste tra le tensioni e le correnti in questo circuito intanto partiamo dalla considerazione generale che l'impedenza di una serie di impedenze non è altro che la somma delle singole impedenze che costituiscono la serie quindi nel nostro caso abbiamo la serie della resistenza r dell'induttanza l avremo che la somma delle due costituirà l'impedenza serie data dalla somma delle singole impedenze se fossero più di due si farebbe la somma di tutte nel nostro caso quindi abbiamo che l'impedenza della resistenza sappiamo essere pari proprio al valore della resistenza quindi un numero reale puro l'impedenza dell'induttanza sappiamo essere invece j omega l quindi un numero complesso puro immaginario puro scusate dove omega la pulsazione 2 pi greco per f l l'induttanza il termine 2 pi greco f per l prende il nome di reattanza induttiva x con l quindi a questo punto possiamo calcolare la serie delle nostre impedenze quindi avremo che la somma di r e j x con l che sono appunto le due impedenze dei componenti elementari quindi il circuito r l serie avrà questa impedenza che evidenziamo r più j x l quindi un numero complesso composta da una parte reale una parte immaginaria positiva adesso vediamo appunto una rappresentazione sul piano di gauss dell'impedenza che abbiamo ricavato z quindi piano di gauss assi reale immaginario l'impedenza z vedete a parte reale r quindi sull'asse dei reali individuiamo un punto che abbia ascissa r il valore della resistenza e abbiamo una parte immaginaria pari alla reattanza induttiva x l individuiamolo supponiamo che sia questo a questo punto la l'impedenza z sul piano di gauss non sarà altro che il punto di intersezione fra avente le due coordinate r e x l r reale x l immaginario puro quindi la z la possiamo rappresentare con questo vettore z e questo vettore sarà anche caratterizzato dalla sua fase adesso andiamo a calcolare la corrente nel circuito la corrente nel circuito la calcoliamo con la legge di ohm generalizzata quindi come rapporto fra la tensione v ai capi della serie di impedenze divise l'impedenza della serie quindi la tensione v caratterizzata dal suo modulo e dalla sua fase generici v e fi v e z caratterizzata dal suo modulo e dalla sua fase fi dove ovviamente il modulo di z sarà la lunghezza del vettore che abbiamo indicato sul piano di gauss e fi è l'angolo formato con l'asse delle ascisse l'angolo fi prende il nome di angolo caratteristico dell'impedenza ricordatevi che l'impedenza non rappresenta un vettore rotante quindi non rappresenta un'onda sinusoidale ma rappresenta il legame matematico fra tensione e corrente quindi l'angolo fi non rappresenta una fase di un'onda sinusoidale ma rappresenta appunto l'angolo caratteristico dell'impedenza nel nostro caso è chiaro che quest'angolo caratteristico sarà compreso fra 0 e 90 gradi a seconda dei valori di r di x con l essendo x con l sempre e comunque positivo quindi avremo che l'angolo caratteristico se r è molto maggiore di x con l allora avremo che l'angolo caratteristico tenderà a 0 quindi prevarrà la parte resistiva la parte reale dell'impedenza rispetto alla parte immaginaria al contrario se x l è molto maggiore di valore rispetto ad r quindi la componente reattiva molto superiore allora l'angolo fi l'angolo caratteristico tenderà a 90 gradi nel caso particolare in cui il valore della resistenza sia uguale al valore della riattanza induttiva avremo che l'angolo caratteristico sarà uguale a 45 gradi quindi con la componente reale la componente immaginaria uguale anche questa considerazione le ricordiamo per ricordarle angolo caratteristico dell'impedenza compreso fra 0 e 90 gradi quindi continuiamo a sviluppare il calcolo della corrente il rapporto di due numeri complessi è uguale al rapporto dei moduli e alla differenza tra le fasi del numeratore e del denominatore quindi nel nostro caso avremo modulo v fratto z e fase fase di v meno angolo caratteristico dell'impedenza quindi il modulo della corrente sarà uguale al valore efficace della tensione diviso il modulo dell'impedenza e andiamo a rappresentare anche la corrente le tensioni su un diagramma vettoriale sul piano di gauss quindi i nostri assi reale immaginario supponiamo che la tensione v genericamente sia rappresentata da un vettore di questo tipo quindi un vettore qualsiasi scegliamo un angolo fiv a piacere supponiamo che sia il vettore v nel primo quadrante del piano di gauss e questo è la fase fiv del della tensione del generatore dalla relazione che ci fornisce da legge di ohm generalizzata abbiamo che la corrente i avrà modulo dato dal rapporto v fratto z supponiamo che sia questa lunghezza è una fase che sfasata di fi in ritardo rispetto alla tensione quindi l'angolo fi con i la fase fi con i della corrente come abbiamo visto dalla dell'espressione della legge di ohm generalizzata è data dalla differenza fra la fase della tensione e l'angolo caratteristico della dell'impedenza quindi l'angolo fi con i è dato dalla differenza fra fi v e l'angolo caratteristico fi dell'impedenza quindi fra tensione e corrente lo sfasamento è pari all'angolo caratteristico dell'impedenza dove la corrente risulta essere in ritardo dell'angolo caratteristico dell'impedenza fi rispetto alla tensione v o viceversa possiamo dire che la tensione v ai capi della serie risulta essere in anticipo dell'angolo caratteristico dell'impedenza fi rispetto alla corrente i quindi queste sono relazioni importanti sempre verificate quindi in un circuito rl la corrente risulta essere sempre in ritardo sulla tensione ai capi dell'impedenza rl e viceversa la tensione risulta essere in anticipo sulla corrente andiamo adesso a disegnare ancora il diagramma vettoriale riportando anche le altre due tensioni presenti nel circuito cioè quelle ai capi della resistenza e quelle ai capi dell'induttanza disegniamo nuovamente il piano di gauss asse reale e immaginario riportiamo sul piano di gauss i due vettori v ai capi della serie che è uguale a quella del generatore ovviamente nel nostro circuito e la corrente i spasata dell'angolo caratteristico dell'impedenza in ritardo rispetto alla tensione e cerchiamo le relazioni che esprimono la tensione ai capi della resistenza e la tensione ai capi dell'induttanza riguardiamo rapidamente il circuito vedete la corrente i scorre sia nella resistenza r che nell'induttanza l quindi avremo sempre per la legge di ohm generalizzata che la tensione vr e capi di r sarà uguale all'impedenza della resistenza per la corrente ovviamente prodotto fra numeri complessi dove l'impedenza della resistenza è semplicemente il valore di r con angolo 0 e la corrente ha il suo valore efficace con angolo fi con i quindi nel prodotto avremo il prodotto dei moduli r per i e la somma delle fasi fi con i più zero e quindi fi con i quindi vuol dire che la tensione vr che a fase fi con i uguale a quella della corrente giaccerà sullo stesso segmento quindi tratteggiamo un'estensione lungo la direzione definita dalla corrente i e la tensione vr si troverà in quella direzione vediamo la tensione capi dell'induttanza sarà data dal prodotto z l per i sempre la legge di ohm generalizzata quindi z l e j x l sappiamo che la corrente i la abbiamo espressa appunto col suo vettore i sul piano quindi avremo per j x l modulo x l fase 90 gradi per i modulo i valore efficace della corrente e fase fi con i nel prodotto faremo il prodotto dei moduli quindi x con l per i sarà il modulo della tensione è la somma delle fasi quindi fi con i più 90 gradi quindi vedete che la tensione capi dell'induttanza risulta essere sfasata di 90 gradi in anticipo rispetto alla corrente fi con i quindi già c'era su questa direttrice che forma un angolo di 90 gradi quindi perpendicolare alla direzione definita dalla corrente i a questo punto per disegnare la tensione vr la tensione vl non dobbiamo fare altro che pensare al fatto che la legge di kirko fa la maglia che mi esprime la somma vettoriale delle tensioni la possiamo scrivere in questo modo la tensione ai capi del della serie quindi del generatore uguale alla somma delle cadute di tensione su resistenza e induttanza quindi questa somma vettoriale nel nostro piano è rappresentata da un dal vettore vr dal vettore vl la cui somma deve coincidere col vettore v quindi la successione dei vettori vr vl facendo ripartire vl dalla fine di vr deve essere uguale al vettore del della tensione del generatore quindi il possiamo scrivere appunto che la tensione del generatore data dalla somma vettoriale dei vettori appunto vr e vl rappresenta un percorso chiuso nel nostro diagramma vettoriale e quindi uno dei lati quello dove è presente solo la tensione v deve essere uguale alla somma degli altri lati nel nostro caso vr più vl quindi otteniamo un grafico a triangolo un diagramma vettoriale a triangolo dove due lati sono rappresentati dalla somma di vr e di vl che sono i due cateti in questo caso è l'ipotenusa del triangolo è rappresentata invece dalla tensione del generatore v quindi questa somma vettoriale rappresentata sul diagramma non è altro che la rappresentazione grafica del teorema di kirchhoff alla maglia del nostro circuito anche questa considerazione la mettiamo in evidenza per la sua importanza